Di Joseph Conrad, Cuore di Tenebra, Voce di Lorenzo Pieri, Capitolo III, Prima Parte Lo guardai pieno di stupore. Se ne stava lì davanti a me, entusiasta, favoloso, nel suo abito vario-pinto, con l'aria di essere scappato da una compagnia di mimi. Persino la sua esistenza era improbabile, inspiegabile, sconcertante. Era un problema insolubile. Era assurdo che esistesse, che fosse riuscito ad arrivare così lontano, che ce l'avesse fatta a rimanerci senza essere sparito subito. Mi spinsi un po' oltre, disse. Poi ancora un po' oltre, e alla fine mi trovai così lontano che non so più come farò a tornare indietro. Ma non importa, c'è tutto il tempo. Io posso cavarmela. Lei però porti via Kurz, in fretta, in fretta, mi raccomando. Il fascino della giovinezza avvolgeva i suoi cengi multicolori, la sua miseria, la sua solitudine, la desolazione profonda dei suoi futili vagabondaggi. Per mesi, per anni, la sua vita non era valsa il salario di una giornata, e tuttavia era lì, coraggiosamente, spensieratamente vivo, indistruttibile in apparenza, grazie ai suoi pochi anni e alla sua audacia irriflessiva. Mi attirava a lui un sentimento simile all'ammirazione, all'invidia. Il fascino lo spronava, il fascino lo manteneva illeso. Non chiedeva alla foresta che uno spazio dove respirare e procedere sempre più avanti. Aveva solo bisogno di esistere e di andare oltre, correndo i massimi rischi possibili e subendo il massimo delle privazioni. Semai lo spirito dell'avventura, assolutamente puro, non contaminato da calcoli o da finalità pratiche, ha dominato un essere umano. Esso dominava questo giovane pieno di toppe. Quasi gli invidiavo questa modesta e limpida fiamma. Pareva avere talmente consumato qualsiasi considerazione di carattere personale, che persino quando ti parlava dimenticavi che era stato lui, l'uomo davanti ai tuoi occhi, a passare per tutte quelle vicende. Non gli invidiavo però la devozione a Kurz. Non era frutto di riflessione, gli era avvenuta e l'aveva accettata con una sorta di avido fatalismo. Devo dire che a me sembrava in tutti i sensi la cosa più pericolosa in cui si fosse allora imbattuto. Era inevitabile che si mettessero assieme, come due navi in panne, l'una accanto all'altra, che finalmente si sfregano con i fianchi. Immagino che Kurz avesse avuto bisogno di un pubblico perché una volta, accampati nella foresta, avevano parlato per tutta una notte, o più probabilmente aveva parlato Kurz. Parlammo di tutto, disse il russo quasi estasiato dal ricordo. Avevo dimenticato l'esistenza stessa del sonno. La notte mi sembrò durare meno di un'ora, di tutto, di tutto, d'amore anche. Ah, le parlò d'amore, dissi molto divertito. Non è come lei pensa, gridò lui quasi con passione. Parlava in generale, mi faceva capire cose, cose. Alzò le braccia. Eravamo sul ponte e il capo dei miei taglialegna, che ciondolava nelle vicinanze, volse verso di lui gli occhi gonfi e lucenti. Io mi guardai attorno, e non so perché, ma vi assicuro che mai, mai prima di allora, quella terra, quel fiume, quella giungla, persino l'arco di quel cielo sfavillante, mi erano sembrati così disperati, e così bui, e così inaccessibili al pensiero umano, così spietati con le loro debolezze umane. E da allora lei è sempre stato con lui, naturalmente, dissi. Al contrario, a quanto pareva, il rapporto per varie ragioni si era spesso interrotto. Era riuscito, mi comunicò con fierezza, a curare Kurz da due malattie, e ne parlava come di un'impresa rischiosa, ma di solito Kurz girava da solo nelle profondità più lontane della foresta. Spessissimo, quando venivo in questa stazione, dovevo aspettare giorni prima che comparisse, disse. Ah, ma valeva la pena aspettare, certe volte. E cosa faceva lui? esplorava, domandai. Sì, certo. Aveva scoperto una quantità di villaggi, e anche un lago. Lui non sapeva di preciso da quale parte era pericoloso fare troppe domande, ma in genere le spedizioni avevano come obiettivo lavorio. A questo punto, però, non aveva niente da offrire in cambio, obiettai. C'è ancora una quantità di cartucce, rispose lui guardando altrove. In parole povere, saccheggiava il paese, dissi. Annui. Non da solo, certo. Borbottò qualcosa sui villaggi intorno a quel lago. Kurz convince la tribù a seguirlo, vero? Insinuai. Si agitò un poco. Lo adoravano, disse. Il tono delle sue parole era talmente strano che lo guardai con attenzione. Era curioso vederlo così impaziente, e insieme così restio a parlare di Kurz. Quell'uomo riempiva la sua vita, occupava i suoi pensieri, dominava i suoi sentimenti. Cos'altro s'aspettava, prorruppe. Arrivò da loro col tuono e col fulmine, capisce? E quelli non avevano mai visto niente del genere, né di così terribile. sapeva essere davvero terribile. Lei non può giudicare il signor Kurz come se fosse un uomo qualsiasi. No, no, no. Ora, tanto per darle un'idea, non ho nessuna reticenza a raccontarle che un giorno voleva sparare anche a me, ma io non lo giudico. Sparare a lei, gridai. E perché? Beh, avevo una piccola partita ad avorio che mi aveva dato il capo del villaggio vicino a casa mia. Deve sapere che io ammazzavo capi di selvaggina per conto loro. Comunque lui lo voleva e non era disposto a sentir ragioni. Affermò che mi avrebbe sparato se non gli avessi dato l'avorio e poi se ne sarebbe andato da qui, perché lui poteva farlo e ne aveva anche voglia e non c'era niente sulla terra che gli impedisse di uccidere chi diavolo gli piaceva. Ed era vero. Così gli diedi l'avorio. Per quello che me ne importava. Ma non me ne andai. No, no, non potevo lasciarlo. Dovetti agire con cautela, naturalmente, finché per un po' non ridiventammo amici. Fu allora che ebbe la sua seconda malattia. Dopodiché dovetti girare a largo. Ma non mi importava. Passava la maggior parte del tempo in quei villaggi sul lago. E quando scendeva il fiume, a volte mi dava retta e altre volte mi conveniva non farmi vedere. Soffriva troppo quell'uomo. Odiava tutto questo, ma per qualche motivo non poteva staccarsene. Quando ne avevo l'occasione, lo supplicavo perché cercasse d'andarsene. Finché ne aveva ancora il tempo, mi offrivo anche di accompagnarlo. E lui diceva sì, ma poi restava. Andava ancora a caccia d'avorio. Spariva per settimane. Dimenticava se stesso in mezzo a quella gente. Dimenticava se stesso, capisce? Ma è pazzo, dissi. Protestò indignato. Il signor Kurz non poteva essere pazzo. Se solo lo avessi udito parlare due giorni fa, non avrei mai osato insinuare una cosa simile. Mentre parlavamo, avevo preso il binocolo e guardavo la riva, perlustrando il limitare della foresta in entrambe le direzioni e dietro la casa. La consapevolezza che ci fosse gente in quella boscaglia così silenziosa, così tranquilla, silenziosa e tranquilla come la casa cadente sulla collina, mi metteva a disagio. Non c'era traccia sul volto della natura di questa storia sbalorditiva che mi veniva più che raccontata, suggerita con esclamazioni desolate e completate da alzate di spalle, frasi interrotte, accenni che in sospiri profondi. I boschi, immobili come una maschera, pesanti come la porta chiusa di una prigione, ci guardavano con un'aria di segreta consapevolezza, di attesa paziente, di silenzio inaccessibile. Il russo mi stava spiegando che solo da poco il signor Kurz aveva sceso il fiume, portando con sé tutti i guerrieri della tribù del lago. Era stato assente per mesi a farsi adorare, immagino, ed era arrivato inatteso allo scopo, a quanto sembrava, di compiere una scorreria dall'altra parte del fiume, o più a valle. Evidentemente la voglia d'accumulare avorio aveva avuto la meglio sulle sue, come definirle, aspirazioni meno materiali. Tuttavia, all'improvviso era molto peggiorato. Mi giunse notizia che giaceva privo d'assistenza e allora venni su, colsi la mia occasione, disse il russo. Oh, sta proprio male, malissimo. Puntai il binocolo sulla casa. Non c'erano segni di vita, ma c'erano le rovine del tetto e il lungo muro di fango che ricciava sopra l'erba, con i tre piccoli vani quadrati delle finestre, tutti di dimensioni diverse. E questo era oramai, per così dire, alla portata della mia mano. Poi fece un movimento brusco e uno dei paletti superstiti di quello steccato scomparso entrò ad un balzo nel campo visivo delle mie lenti. Ricorderete che vi avevo detto di essere stato colpito da certi tentativi di decorazione, assolutamente singolari, considerate le rovinose condizioni del luogo. E ora, all'improvviso, potevo vederlo più da vicino. E il primo risultato fu che tirai indietro la testa come di fronte a un pugno. Poi spostai attentamente il binocolo da un paletto all'altro e compresi il mio sbaglio. Quei pomi rotondi non erano ornamentali, ma simbolici. Erano espressivi e sconcertanti, sconvolgenti e preoccupanti. Cibo per la mente, oltre che per gli avvoltoi, se ce ne fosse stato qualcuno a guardare dal cielo. E in ogni caso, per le formiche abbastanza diligenti da arrampicarsi. Avrebbero fatto ancora più impressione quelle teste sui paletti, se i loro visi non fossero stati rivolti verso la casa. Solo uno, il primo che avevo scorto, era girato verso di me. Non ero scandalizzato come voi potreste pensare. Lo scatto indietro che avevo avuto non era stato che una reazione di sorpresa. Mi ero aspettato, capite, di vedere un pomo di legno. Tornai deliberatamente al primo che avevo visto, ed eccola lì, nera, essiccata, infossata, con gli occhi chiusi. Una testa, che pareva addormentata sul palo, e dal momento che le labbra raggrinzite scoprivano una stretta e bianca fila di denti, stava anche sorridendo, sorrideva in continuazione per qualche sogno giocoso e interminabile del suo riposo eterno. Non sto rivelando segreti commerciali. Di fatto, il direttore avrebbe poi detto che i metodi del signor Kurz avevano rovinato il distretto. Su questo personalmente non ho opinioni, ma voglio che sia ben chiaro che nella presenza delle teste in quel luogo non c'era niente di redditizio. dimostravano soltanto che il signor Kurz non aveva freni nel perseguimento delle proprie voglie, che in lui mancava qualcosa, qualche piccola cosa che nei momenti di bisogno pressante non era possibile trovare sotto la sua meravigliosa eloquenza. Se fosse o no consapevole di questa carenza, non posso dirlo. Credo che alla fine sia arrivato a rendersene conto, ma solo alla fine. La foresta, tuttavia, aveva scoperto da tempo la sua vera natura e si era presa su di lui una terribile vendetta per la sua fantastica invasione. Credo che gli avesse sussurrato qualcosa di sé che lui ignorava, qualcosa di cui non aveva avuto idea finché non si era consultato con questa grande solitudine e quel sussurro aveva esercitato un fascino irresistibile e che già va in lui con fragore perché nel profondo del cuore lui era vuoto. Posai il binocolo e la testa che mi era sembrata così vicina da poterle parlare parve schizzare via immediatamente ad una distanza inaccessibile. L'ammiratore del signor Kurz era un po' depresso. Con voce frettolosa e indistinta cominciò ad assicurarmi che non osava tirar giù quei simboli, chiamiamoli così, non che avesse paura degli indigeni, non si sarebbero mossi finché il signor Kurz non avesse dato loro il via. Il suo ascendente era inimmaginabile. L'accampamento di quei guerrieri era disseminato tutto intorno e i capi venivano ogni giorno a vederlo. Strisciavano. Non voglio saper niente delle cerimonie praticate nell'avvicinarsi al signor Kurz, gridai. Avevo stranamente avuto la sensazione improvvisa che questi particolari sarebbero stati più intollerabili delle teste lasciate a seccare sui paletti sotto le finestre del signor Kurz. In fondo questa era solo una scena selvaggia, mentre a me sembrava di essere stato trasportato d'un balzo in qualche oscura regione di orrori sottili, dove la pura e semplice e ferocia sarebbe stata un autentico sollievo, essendo ovviamente qualcosa che aveva il diritto di esistere alla luce del sole. Il giovane mi guardò sorpreso. Non concepiva nemmeno, suppongo, che il signor Kurz non fosse un mio idolo. Dimenticava che io non avevo avuto modo di ascoltare quegli splendidi monologhi su quali erano i temi, l'amore, la giustizia, la maniera di vivere o che so io. E in quanto a strisciare davanti al signor Kurz era pronto a farlo come i più genuini di quei selvaggi. Io non avevo idea della situazione, disse. Quelle erano teste di ribelli? Lo scandalizzai moltissimo mettendomi a ridere. Ribelli. E quale sarebbe stata la prossima definizione che avrei udito? C'erano già stati i nemici, i criminali, gli operai. E adesso toccava i ribelli. A me quelle teste di ribelli sembravano molto docili sui paletti. Lei non sa come una vita del genere possa logorare un uomo come Kurz, disse l'ultimo discepolo di Kurz. Già, ma lei lo sa, dissi. Io? Io sono un uomo semplice. Io non ho grandi pensieri. Io non voglio niente da nessuno. Come può fare un paragone? Era troppo eccitato per parlare ed un tratto si interruppe. Non capisco, gemette. Io ho fatto del mio meglio per tenerlo in vita ed è già molto. Io non c'entro con tutto questo. Io non ho capacità particolari. Per mesi qui non c'è stata né una goccia di medicinali né una cucchiaiata di cibo per malati. Lo avevano vergognosamente abbandonato. Un uomo come lui, con idee così grandiose. Vergognosamente, vergognosamente. Io, io sono dieci notti che non dormo. La sua voce si perse nel silenzio della sera. Mentre parlavamo, le lunghe ombre della foresta erano scivolate giù dalla collina, spingendosi oltre il tugurio, di là dalla fila simbolica di Paletti. Tutto questo era al buio, ma noi, laggiù, ci godevamo ancora la luce del sole, e il tratto del fiume all'altezza della radura luccicava di un immobile abbagliante splendore, con un'ansa caliginosa e in ombra, in alto e in basso. Sulla riva non si vedeva anima viva. I cespugli non frusciavano. All'improvviso dall'angolo della casa comparve un gruppo di uomini come sbucati dal suolo. Guadavano l'erba, sprofondati sino alla vita in un gruppo compatto, e portavano tra loro una barella improvvisata. Immediatamente, nel vuoto del paesaggio, si levò un grido che con il suo stridore trafisse l'aria immota, come una freccia acuminata che vola dritta al cuore stesso della terra. E come per incanto, fiumane di esseri umani, di esseri umani nudi, con la lancia in mano, con archi, con scudi, con sguardi feroci e gesti selvaggi, si riversarono nella radura della foresta cupa e pensosa. I cespugli tremarono, l'erba ondeggiò per un poco, poi tutto si fermò in una tesa immobilità. Adesso, se non dice loro quello che deve dire, per noi è finita, disse il russo al mio fianco. Anche il gruppo con la barella si era fermato a mezza strada verso il battello, come pietrificato. Vidi l'uomo sulla barella mettersi a sedere, magrissimo, e con un braccio alzato sopra le spalle dei portatori. Speriamo che l'uomo che sa parlare tanto bene dell'amore in generale. Trovi stavolta qualche ragione particolare per risparmiarci, dissi. Ero amaramente indignato per il pericolo assurdo della nostra situazione, come se nell'essere alla merce di quello spietato fantasma ci fosse stato qualcosa di disonorevole. Non udivo alcun suono, ma vidi col binocolo il braccio sottile teso in un gesto di comando, la macella inferiore che si muoveva e gli occhi di quella apparizione che brillavano, bui, incavati in quella testa ossuta che annuiva con sussulti grotteschi. Kurz. Kurz significa corto in tedesco, no? Beh, il nome era appropriato come tutto il resto della sua vita e della sua morte. Sembrava alto almeno due metri. Ciò che lo copriva era caduto e il suo corpo ne emergeva, miserevole e spaventoso come da un sudario. Vedevo vibrare la sua cassa toracica, ondeggiare le ossa del suo braccio. Era come se un'animata immagine di morte, scolpita in un antico avorio, stesse agitando una mano minacciosa a una folla immobile di uomini, fatti di un bronzo scuro e luccicante. Lo vidi spalancare la bocca e ciò gli diede un aspetto stranamente vorace, quasi volesse inghiottire tutta l'aria, tutta la terra, tutti gli uomini che aveva davanti. Mi arrivò, fievole, una voce profonda. Doveva avere urlato, poi ricadde indietro, all'improvviso. La barella tremò quando i portatori ripresero traballando il cammino e quasi nello stesso istante mi accorsi che la folla dei selvaggi stava scomparendo, senza che fossero avvertibili movimenti di ritirata, come se la foresta, che aveva così repentinamente buttato fuori quelle creature, le avesse di nuovo assorbite come il fiato in un lungo respiro. Dietro la barella alcuni dei pellegrini portavano le sue armi, due schioppi, un fucile pesante e una carabina leggera a ripetizione. Le folgori di quel miserevole Giove. Camminandogli accanto, il direttore si chinò a sussurrargli qualcosa. Lo posarono in una delle piccole cabine, dove c'era spazio sufficiente per una branda e un seggiolino pieghevole o due. Gli avevamo portato la corrispondenza arretrata e un certo numero di buste strappate e di lettere aperte era disseminato sul letto. Le sue mani vagavano deboli tra queste carte. Mi colpirono il fuoco dei suoi occhi e il controllato languore della sua espressione. Non era tanto la spossatezza della malattia. Non aveva l'aria di soffrire. Quell'ombra pareva calma e soddisfatta, come se per il momento fosse sazia di emozioni. Fece frusciare una delle lettere e guardandomi dritto in viso, disse molto piacere. Qualcuno gli aveva scritto di me. Risaltavano fuori quelle raccomandazioni speciali. Il volume della voce, che emise senza il minimo sforzo, quasi senza prendersi il disturbo di muovere le labbra, mi sbalordì. Che voce! Che voce! Grave, profonda, vibrante, sebbene l'uomo sembrasse incapace persino di sussurrare. Aveva tuttavia forza sufficiente, anche se fittizia, credo, a far rischiare a noi tutti una brutta fine, come sentirete tra poco. Il direttore comparve in silenzio sulla soglia. Io mi affrettai a uscire, e poi mi tirai la tenda alle spalle. Il russo, occhieggiato con curiosità dai pellegrini, stava affissando la spiaggia. Seguì la direzione del suo sguardo. Si potevano distinguere in lontananza scure figure umane, che passavano veloci e indistinte sullo sfondo cupo della foresta, e vicino al fiume due corpi bronzei, appoggiati ad alte lance, che se ne stavano al sole sotto incredibili copricapi di pelli variegate, bellicosi e nello stesso tempo in uno statuario atteggiamento di riposo. E da destra a sinistra si muoveva sulla riva illuminata l'immagine selvaggia e sontuosa di una donna. Avanzava a passi misurati, drappeggiata in panni a strisce e a frange, incedendo con aria fiera in un lieve tintinnio e in un lampeggiare di barbari ornamenti. Teneva la testa alta, aveva i capelli acconciati come un casco. Portava gambiere d'ottone sino alle ginocchia, guanti di filo di ottone sino ai gomiti, una macchia cremisi sulla guancia bruna, innumerevoli collane di perline di vetro al collo, oggetti bizzarri amuleti, doni di stregoni che pendevano da ogni dove, scintillavano e vibravano ad ogni suo passo. Doveva avere addosso l'equivalente di parecchie zanne d'elefante. Era selvaggia e superba, stralunata e magnifica. C'era qualcosa di sinistro e di solenne nel suo lento procedere. E nel silenzio calato all'improvviso su quella terra dolente, la foresta sterminata, il corpo gigantesco di quella vita feconda e misteriosa. Pareva guardarla pensosa, come se contemplasse l'immagine della sua stessa anima tenebrosa e appassionata. Arrivata all'altezza del battello, si fermò e si voltò verso di noi. La sua lunga ombra cadeva sul ciglio dell'acqua, il suo viso aveva un aspetto tragico e feroce di dolore selvaggio e di sorda sofferenza, mescolati alla paura per non so quale decisione, già presa per metà ma ancora oggetto di dibattito. Rimase a guardarci senza alcun movimento e come la foresta stessa, con l'aria di accarezzare qualche impenetrabile proposito. Lasciò passare tutto un minuto, poi fece un passo avanti. Ci fu un tintinnio sommesso, un giallo bagliore di metallo, un ondeggiare di drappi ornati, di frange, e si fermò come se il cuore le fosse venuto meno. Il giovane che mi stava accanto ringhiò. I pellegrini mormorarono qualcosa alle mie spalle. Ci guardava come se l'intera sua vita dipendesse dalla fermezza inflessibile di quello sguardo. Poi all'improvviso allargò le braccia nude e le alzò rigide sopra la testa come per un desiderio incontrollabile di toccare il cielo, e contemporaneamente le ombre veloci guizzarono sulla terra, sfrecciarono sul fiume, avvolsero il battello in un abbraccio spettrale. Un silenzio impressionante incombeva sulla scena. Si voltò lentamente e riprese a camminare, seguendo l'argine, sino a scomparire tra i cespugli sulla sinistra. Soltanto una volta i suoi occhi si volsero a guardarci, scintillanti nella penombra, prima che lei sparisse. «Se avesse chiesto di salire a bordo, credo proprio che avrei cercato di spararle», disse nervosamente l'uomo con le toppe. «Nelle ultime due settimane ho rischiato ogni giorno la vita per tenerla fuori di casa. Una volta entrò e fece un putiferio per quei miserabili stracci che avevo preso in magazzino per rattopparmi i vestiti. Non ero presentabile. Almeno credo che fosse questa la ragione, perché parlò come una furia a Kurz per un'ora, indicandomi ogni tanto. Io non capisco il dialetto della sua tribù, per mia fortuna. Immagino che quel giorno Kurz stesse troppo male per prendersela, altrimenti avrei avuto dei guai. Non capisco, no, è troppo per me. Comunque adesso è finito tutto». A questo punto udì da dietro la tenda la voce profonda di Kurz. «Salvami. Salvare l'avorio è a questo che pensi, no. Salva me. Dopotutto io ho dovuto salvare voi e tu ora stai intralciando i miei piani. Malato, malato. Ma non sono poi così malato come ti piacerebbe credere. Non importa. Porterò ugualmente a termine i miei progetti. Tornerò. Ti farò vedere cosa si può fare. Tu con le tue ideuzze da venditore ambulante. Tu mi stai ostacolando. Ma io tornerò. Io...» Il direttore uscì, mi fece l'onore di prendermi sotto braccio e mi condusse in disparte. «È giù, molto giù», disse. Ritenne necessario sospirare, ma trascurò di mostrarsi attendibilmente addolorato. «Abbiamo fatto per lui tutto quello che potevamo, no? Ma non dobbiamo nasconderci la realtà. Il signor Kurz, alla compagnia, ha fatto più male che bene. Non ha capito che i tempi non erano maturi per un'azione energica. Cautela. Cautela. È questo il mio motto. Dobbiamo ancora andare cauti. Il distretto ora ci sarà chiuso per un certo periodo. È deplorevole. E l'intero commercio finirà per soffrirne. Non nego che ci sia una notevole quantità d'avorio, in massima parte fossile. Dobbiamo salvarlo per qualsiasi evenienza. Ma guardi com'è precaria la nostra posizione. E sa perché? Perché è il metodo sbagliato. Lei, dissi guardando la riva, lo definisce un metodo sbagliato? Senza alcun dubbio, esclamò con calore. Lei no? Non c'era nessun metodo, mormorai dopo un po'. «Precisamente», esultò lui. «Lo avevo previsto. Ciò dimostra una totale mancanza di discernimento. È mio dovere farlo notare a chi di dovere. Ah, dissi, quel tizio, come si chiama, il fabbricante di mattoni. Le preparerà un rapporto leggibile». Per un attimo parve sconcertato. Mi sembrava di non avere mai respirato un'atmosfera così nauseante. E mi rivolsi mentalmente a Curza per cercare sollievo, sì signori, per cercare sollievo. «Penso tuttavia che il signor Curza sia un uomo notevole», dissi con enfasi. Mi guardò. Mi lasciò cadere addosso un'occhiata fredda e severa. Disse con molta calma. «Lo era». E mi voltò le spalle. Il mio momento di favore era finito. Ero considerato alla stessa stregua di Curza un fautore di metodi per i quali i tempi non erano maturi. Uno che sbagliava. Ah, ma era pur sempre qualcosa potere almeno scegliersi i propri incubi.